Appuntamento domani, domenica alle ore 18, in una cornice splendida, quella vicina alla villetta comunale del Palazzo di Città, in Via Mazzini, al Refettore dei Domenicani, la prima opera di Ilari Tiralongo, raccolta di poesie, Malerba a gocce. Perché Malerba a gocce e di che cosa tratta questo tuo primo libro? Sì, bene, questo mio primo libro, appunto intitolato Malerba a gocce, è un insieme di poesie che sono state raccolte negli ultimi mesi e i temi sono vari, vanno dal substrato umano e sociale che viene raccolto e incanalato come se fossero varie erbe che vanno a confluire in questa pozione, che è appunto quella della Malerba, pozione che si spera possa non diventare eccessiva nei confronti dei lettori, proprio per questo viene servita a gocce così che possa essere meglio assorbita da chi legge. Ecco, da qui il titolo. Pubblicato dalla casa editrice, prova d'autore, a casa importante di Catania, solo 60 pubblicazioni e 6 pubblicazioni, 6 pubblicazioni solamente ogni anno. Fra l'altro il libro sarà presentato domani dal professore Pietro Barcellona, poi dalla professoressa Di Stefano e da Mario Grasso. Esattamente, Pietro Barcellona, luminare della cultura nazionale e internazionale, la stessa cosa per Mario Grasso, che è il direttore anche della casa editrice, prova d'autore appunto catanese, diretta anche da Nives Levan. Sono delle personalità importanti che domani ci pregeranno della loro presenza in questa occasione qui ad Avola. Francesco Foti e Roberta Musumeci leggeranno appunto i tuoi pensieri, le tue opere che sono tratte da questo libro. Ma chi è Ilari Tiralongo? Ilari Tiralongo è una ragazza di Avola che si è formata a scuola, liceo scientifico di Avola, Ettoro Majorana, che adesso fa giurisprudenza a Catania. Sì esatto, ho seguito la facoltà, adesso sto frequentando la facoltà di giurisprudenza qui a Catania dopo cinque anni di liceo scientifico al Majorana di Avola e sono al quarto anno e nel frattempo cerco di portarmi avanti anche con quelle che sono le mie passioni, quella appunto la letteratura e l'arte in generale. Adesso finalmente siamo riusciti a pubblicare questa raccolta di poesie e grazie a prova d'autore e speriamo che questo percorso possa andare avanti il più a lungo possibile. Forte formazione letteraria, quindi leggi, leggi, sappiamo che divori i libri, quali libri divori, quali libri leggi soprattutto? Un po' di tutto, dalle raccolte poetiche, quindi da García Lorca, ma anche Marquez, Sepulve, da Isabella Allende, vari italiani, Calvino, Pirandello, un po' di tutto insomma. Grazie.